buongiorno amici buon anno è il primo di gennaio e abbiamo deciso di cominciare il nostro anno con il nostro primo ufficiale vlog viaggetto in toscana siamo in fase di ripresa dei festeggiamenti di capodanno adesso si cambia in autotrada in mezzo alla teffia tutto molto più difficile abbiamo gimme nel governo e allora siamo diretti a mangiare la fiorentina abbiamo lasciato i nostri pelusini a casa tutti soli hanno cominciato a festeggiare ancora prima che noi ce ne andassimo troveremo la casa distrutta tra 4 giorni Grazie ragazzi questo è il nostro appartamentino qui c'è la piscina, la tv ultra moderna e adesso andiamo, c'è il bagno, la vascula la nostra camera da letto bella grande la stanza degli ospiti abbiamo anche un balcone domani un attimo vi faremo vedere il paesaggio che abbiamo fuori dal nostro appartamento che è fantastico voglio questo balcone è immenso ok abbiamo anche la piscina dopo cercherò la piscina bene siamo pronti per la pantano by night buccia per vomitare il mio amore si deve ancora riprendere e ci aspetta una cosa indimendicabile sono pronto sei anziano non sei un po' ricordato non c'è fame mamma mamma ho fame ho famissima mamma 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 che c'è? ma cosa facciamo a capodanno? ma ti sembra questo il momento per parlare di capodanno? non c'è tempo ma 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 ma